Allora sto a fare il backstage del backstage di Irene che sta a fare il backstage di me che fa il backstage del backstage di Irene Ciao Irene! Ciao! E lui è backstage! Bello backstage! E' una villa, no la casa di vento, in casa è più una villa Questa è poverissima, vuole una chinta la bocca è sicura Certo, lì doveva volare Devo morire Eh, va bene, va bene! Essere cadavere è assai facile Devi stare inerme, controllare il respiro C'è molto sangue in questo video, molto, molto E' il vostro E' tutto nostro No, non è tutto nostro Non si sia e tra le persone del centro Finiamo nel punto di vista No! Ahah! Ahah! Ahahah! 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 Adesso bel anche per mani di pazzie E emerge Is how will you kill the most wonderful fear That you ever chaste Just to claim your fucking love If I turn on the sun If I turn on the, if I turn on the sun If I turn on the sun If I turn on the sun Lascia un video messaggio di scuse a Sara Tipo su strana amore Sara Purtroppo Non ho fatto apposta Sara Perdonami Perdonami Sara Ti prego Non mi ammazzare Prometo Prometo che mi farò perdonare Ti prego torna Torna Sara Torna Ma dov'è l'attrezzatura Dex? L'attrezzatura È alla fabbrica di Daniele Dentro la macchina Con 40 gradi all'ombra A un'ora di strada A un'ora di strada Da da di qua Abbiamo rischiato La vita Tra discese Inverbie E salite minacciose Le discese ardite Le risalite Per arrivare su un posto meraviglioso Che non sarà utilizzato nel video Perché mi sono dimenticato l'attrezzatura A un posto meraviglioso Però è stato divertente E' parecchio Per arrivare su un posto Per arrivare su un posto meraviglioso